Infine, per chiudere questa parte su JavaScript, sul DOM e la manipolazione, vediamo alcuni suggerimenti di performance che abbiamo accennato all'inizio quando vi dicevo come carichiamo un file JavaScript all'interno della pagina. Vi ho detto che se carichiamo un file JavaScript all'inizio della pagina può essere un problema di performance nel LED perché il caricamento della pagina HTML viene bloccato. Tipicamente si carica in fondo la pagina proprio per far sì che tutta la pagina HTML, il DOM eccetera vengano visualizzati, caricati, quindi l'utente del vostro sito, della vostra applicazione web veda quello che succede e poi venga caricato il file JavaScript che a quel punto avrà tutto il DOM a disposizione e può visualizzarlo e può agire, interagire con la pagina. E questo è quello che succede graficamente. Quando lo script è in-head, cosa succede? Si inizia a parsificare l'HTML, poi si trova uno script, si fa il fetch e l'esecuzione dello script e quindi il browser aspetta, il sito rimane bianco, la pagina rimane bianco. E poi a quel punto si continua a parsificare l'HTML e a questo punto la pagina, a questo punto nel tempo, la pagina è disponibile all'utente. Quando lo script è in-body, quindi alla fine, come abbiamo fatto con Bootstrap, cosa succede? Che si parsifica tutto l'HTML, qui la pagina è pronta, è visibile e a quel punto parte prima il fetch e poi l'esecuzione dello script, che a questo punto se ha il DOM pronto e può manipolarlo già subito a suo piacere. Quindi qui vedete il tempo complessivo è lo stesso, la differenza, come vi dicevo già prima, è che qui il sito è pronto molto prima che in questo caso e soprattutto non c'è questa parte di attesa, di pagina bianca, che uno dice chissà cosa sta facendo, per appunto il sito. Ci sono due nuovi attributi di loading, uno si chiama async e uno si chiama defer, per permetterci di caricare i file JavaScript nel LED, non nel body, ma avere un risultato, un comportamento simile a quello che otteniamo quando carichiamo file JavaScript in fondo al body. Adesso li vediamo e c'è anche un grafico come occludi prima. Vedete come si applicano? Script async e poi src e l'altro è script defer e poi src. Cosa dicono? Async dice questo script deve essere fatto il fetch, quindi questa fase di lettura, dello script in parallelo al parsing HTML e valutato appena possibile. Quindi non è immediatamente eseguito, non è blocking, non totalmente blocking, come il caso di prima. Il defer invece dice, ed è preferito vedete, e indica a un browser che lo script deve essere eseguito appena il documento è pronto, appena il documento è parsificato ma subito prima che il DOM, l'evento DOM content loaded è finito. Quindi garantisce, in un certo senso, l'esecuzione in ordine di quello che viene caricato. E quando si usa defer e sync bisogna però appunto mettere queste righe di script all'interno del LED e non in fondo al body. E questa è, in un certo senso, la visualizzazione di cosa capita. Questo è la sync, vedete, qui viene trovato lo script nel LED, in parallelo al fetch continua la parsificazione dell'HTML, a questo punto lo script viene eseguito, quindi il parsing dell'HTML si blocca, quindi il sito, la pagina web apparirà magari mezza fatta e mezza no, con alcune cose a posto e altre cose no. Si esegue questo script e poi viene fatto ripartire il parsing. Con il defer, sempre con lo script nel LED, cosa succede? Che la pagina HTML viene parsificata tutta, fino a un secondo prima che l'evento di DOM content loaded è pronto. Quando si trova lo script nel LED viene fatto il fetch in parallelo, appena la pagina è pronta viene eseguito lo script. Quindi qui l'utente vedrà la pagina HTML, lo script sarà già stato letto in precedenza e viene eseguito solo in fondo. Quindi questo col defer, che è il comportamento preferito, è quello più simile a quello che stiamo utilizzando adesso, con la differenza che questo bloccatino fetch non è più qui, quindi non si prolunga questa attesa prima di poter utilizzare le funzionalità messe a disposizione da JavaScript, ma col defer questo blocco fetch è spostato in parallelo e quindi questo tempo, diciamo, di JavaScript, composta da questa fase di fetch ed execute, è più ridotto e quindi il sito, la pagina web, è disponibile molto prima rispetto alla modalità normale. Quindi da ora in avanti, quando vorrete caricare uno script JavaScript, che siano quelli di Bootstrap o siano quelli fatti da voi, potete metterli nel LED con l'attributo defer.